Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto in studio Alessandro Ranieri. Movimento 5 Stelle ancora all'attacco sui fondi europei da destinare prioritariamente all'area del cratere, diretti invece in gran parte dalla Regione Marche, secondo il Movimento in zone regionali esterne. Sono le deputate Paola Terzoni e Martina Parisse ieri ad Ancona ad aver illustrato un dettagliato dossier chiamato Fondi Sisma 2016 Bancomat della Giunta Ceriscioli, con il quale chiedono alla Regione di fare dietrofront su alcune delibere. Puntuale la risposta del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, nessun uso inopportuno dei fondi europei destinati a rilanciare le aree del cratere sismico. Il Ministero della Giustizia si muove sul caso della sentenza della Corte d'Appello di Ancona relativa a un'accusa di violenza sessuale su una giovane nelle cui motivazioni i giudici, tre donne, avevano fatto riferimento all'aspetto fisico della donna, definendola troppo mascolina per essere oggetto di violenza sessuale. È stato chiesto agli uffici dell'Ispettorato del Ministero di svolgere i necessari accertamenti preliminari in merito alla sentenza che assolveva i due imputati, di origine peruviana come la vittima, 22enne, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado. Ora la Cassazione ha annullato il verdetto e il processo d'appello si rifarà a Perugia. Ieri davanti alla Corte d'Appello di Ancona si è svolto un flash mob di protesta contro i concetti espressi dalla sentenza. Nel pomeriggio di ieri sulla strada Corinaldese, all'altezza dell'incrocio con via Montebianco, si sono scontrati due furgoni e due autovetture. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. A rimanere coinvolti una Volkswagen Polo, una Nissan Micra e due furgoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani e l'ambulanza del 118 che ha portato d'urgenza una donna ferita nell'incidente all'ospedale di Senigallia. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Piazza Simoncelli riqualificata entro la fine del mandato. È l'ambiziosa sfida lanciata dal sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, che, anche se in scadenza di mandato, vuole portare a casa un'ultima maxi-opera, scrive Vivere Senigallia. Il progetto, già pronto nei cassetti dell'amministrazione, ha un solo ostacolo da superare, quello del reperimento delle risorse necessarie per la sua attuazione. Fondi che ovviamente il Comune non ha, ma che punta ad ottenere anche grazie ai fondi extracomunali legati, ad esempio, al recupero dell'antico ghetto ebraico. È stato arrestato il secondo rapinatore del supermercato Tigre Amico di Marina di Montemarciano. Si tratta di un 34enne originario della provincia di Catania e destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Ancona, su richiesta della Procura. L'uomo accusato di rapina aggravata in concorso è stato localizzato dai carabinieri della Compagnia di Senigallia che hanno condotto le indagini sul posto di lavoro a Iesi. La gestione della piscina delle saline finisce nel mirino della Procura. Nella lente della magistratura sarebbe finito l'affidamento in gestione della struttura dato dal Comune alla Wisp senza gara d'appalto. La Procura di Ancona ha notificato gli avvisi di chiusura delle indagini a 13 membri delle giunte dei due mandati del sindaco Maurizio Mangialardi, quelle del 2010 e quelle del 2015. Le accuse a vario titolo sono per reati quali abuso d'ufficio e corruzione. La gioia del cibo con disfagia, ricettario per persone con disfagia. Questo è il titolo del nuovo libro presentato dalla Fondazione Dante Palladini Onlus, realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale delle Marche, Roberto Dormicchi, ideatore del contest e con gli istituti alberghieri di Senigallia, Piobbico e Loreto. Venerdì 15 marzo una grande manifestazione mondiale denominata Sciopero Mondiale per il Clima in oltre 60 paesi in tutto il mondo. Anche Senigallia da qualche settimana ha il suo Fridays for Future e anche Senigallia venerdì 15 marzo dalle 9 alle 13 in Piazza Roma aderirà alla manifestazione. Ed è tutto per questa edizione da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.